E se invece di un colore uniforme sotto la pagina web tu volessi qualcosa di particolare, qualcosa di diverso, ecco che Web Builder ti viene incontro anche in questo caso. Ecco come facciamo, allora clicco il tasto destro qua in un punto della pagina, proprietà pagina, scheda stile, siamo in Web Builder 11. Dunque, qui ho scelto un'immagine, l'ho presa da una mia cartella sul computer e questa immagine è di pochi pixel di dimensioni, cioè 109x65, è piccola. Adesso vediamo come impostare lo sfondo perché si può impostare il comportamento di questa immagine che ci fa da sfondo in diversi modi. Vediamo come, allora qui ho scelto immagine per scegliere un'immagine dal computer che ci faccia da sfondo, qui ripeti in entrambe le direzioni, è la cosa più semplice per usare una piccola immagine che venga ripetuta. Allineamento a sinistra e in alto, cioè l'immagine inizia a coprire da qui, sinistra in orizzontale e in alto in verticale, quindi qui dal punto 0. Ok, ecco il comportamento in questo caso e vediamo l'anteprima. Eccola, l'anteprima. E notiamo che lo sfondo è completamente pieno di quella immagine. Puoi notare quanto è piccola. Allora, vediamo un'altra modalità, ma ho notato una cosa, che impostandola da qui, cioè attraverso il pannello proprietà rapide, riesco a far cambiare il comportamento. Impostandola invece con il metodo del tasto destro qui, proprietà pagina, ho visto che non riesco a cambiare il comportamento dello sfondo. Quindi andrò, questo purtroppo è un bug, è un errore evidentemente nella programmazione di WebBuilder11 che sicuramente sarà risolto. Dunque, qui, ecco qui, così cover vuol dire che non viene ripetuto lo sfondo e il comportamento in questo caso è che lo sfondo rimane fisso e il resto della pagina scorre. Facciamo l'anteprima, allora sfondo fisso e gli oggetti della pagina scorrono. Invece, 100% neanche qui viene ripetuto, ma il comportamento è un po' diverso. Nel caso in cui viene rimpicciolita la finestra perché l'immagine, come puoi vedere, la piccola immagine che abbiamo impostato, si adatta alle dimensioni dello schermo, di un eventuale schermo, di un cellulare, immagino. Immagino, si adatta alle dimensioni per coprire, in ogni caso, l'intero sfondo. Bene, queste erano le opzioni in WebBuilder per vedere un po' il comportamento dello sfondo, per non avere il solito colore unico. E quindi possiamo andare avanti con il prossimo video.